Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti Continuiamo questa avventura signori, tre volte a settimana perché sarà molto lunga e vediamo quest'anno di riuscire a completarla Perché li voglio portare in Champions, in Champions questi gamberetti signori, dobbiamo riuscirci creostruendo una grande squadra Detto questo signori, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ricordo, così annuncio veloce, che abbiamo attivato gli abbonamenti Quindi fateci un salto anche se non me ne frega niente, ma vedete le cavolate che ho scritto Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram, mi trovate sempre come Maullo941 Mi trovate sul sito Viola, quello delle streamer, sempre come Maullo941 Detto questo io vi ringrazio già in anticipo per i like, i commenti, i suggerimenti e per il supporto che date sempre al mio canale e alla serie dei gamberetti Detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Ok signori, allora noi siamo arrivati al 28 dicembre Diciamo il 28 dicembre, stiamo per fare non so che cosa Abbiamo la partita, andiamo avanti, andiamo avanti Non abbiamo allenamenti, non abbiamo nulla, meglio così Andiamo avanti verso la prossima partita che è l'ultima dell'anno Giochiamo proprio la vigilia della vigilia di Capodanno Siamo molto vicini anche a queste date, siamo molto vicini Allora il giovane vuole andare via Daiichi Okamoto Vuole riscindere il proprio contratto A quest'altro chi è? Ok, il simpaticone mi sembra che l'avamo cacciato noi E Okamoto, dobbiamo andare a vedere Okamoto signori Che problemi abbia? Ozon-Go vuole giocare Ci penserò Ozon-Go Così, te la lascio così, sull'etere, nel dubbio Andiamo a vedere un attimo il giovane prima della partita Questa, questa, vabbè, la giochiamo con i panchinari signori La giochiamo con i panchinari, così fanno esperienza loro Mi fate vedere il giovane che voleva andare via Okamoto, il portiere Era un 45 e diventato un 47 62, 63 Signori, lo troviamo uno meglio di questo 17 anni, rompe già le scatole Te ne puoi andare, guarda Ti caccio io direttamente C'è di giovane Ciao, ciao Ti caccio io direttamente Mi fai schifo E una cosa signori Allora, considerando che noi questi attaccanti esterni Non li utilizzeremo mai nella vita E fanno abbastanza schifo Io li rescindo e contratto anche a loro Così non ce li leviamo dalle scatole Attaccanti destri, attaccanti destri, attaccanti No, cediamo i giovani Fanno, 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 fanno pena Ci teniamo Scott, che secondo me è interessante Però lo troviamo ancora lì A 16 anni non rompe le scatole Hennessy Hennessy Haydan Haydan è un 42 C'è un po' il potenziale Vabbè, lo lasciamo lì Buckley Da valutare Buckley da valutare E lui Voleva rescindere il contratto per andarsene Guarda, ti agevolo e ti mando via io Ciao Tanto non ci serve il simpaticone Con il nome tanto simpatico Stevens È molto promettente Stevens Sulla fascia sinistra Stevens, secondo me ce lo portiamo Vediamo, eventualmente lo mandiamo in prestito a gennaio Vediamo se riusciamo a fare una cosa del genere Boh, boh, boh Valutiamo Perché comunque è un 61 Aspettate, aspettate Vedete È bello perché uno pensa una cosa Parte per fare una cosa E poi le pensa tutt'altra Sulla sinistra noi che abbiamo? Gibson Che ha 23 anni Il nostro Mel Gibson Signori Che è bello È simpatico Roscio Roscio E poi Henry Henry che ha 25 anni Ed è un 64 Sono tutte e due giovani E sulla destra invece abbiamo Baselan Che è stato appena promosso nel cambio di ruolo E Mellor Che ha 29 anni Mmm Ed è un 63 Vabbè, niente Valuteremo Appena rompe le scatole Che se ne vuole andare pure lui Valuteremo un attimino Come muoverci Allora, la giochiamo con i panchinari Signori Noi siamo in terza class Posizione Ottimo 46 punti Buono, buono Salfor City Già se l'ha andato Praticamente Mannaggia loro La giochiamo con i panchinari Signori Perché avevo mezza squadra Stanca Quindi la giochiamo con i panchinari Sperando di portarci a casa I tre punti Che c'è famo? Vinciamo 1-0 Grande Il nostro Percival Al diciannovesimo Zitto, zitto La porta a casa Grandi gamberetti Grandi gamberetti Episodio che parte benissimo Episodio che parte benissimo Ottimo Ottimo, signori Ottimo Allora Andiamo avanti Ho Son Go mi ringrazia Io ti ringrazio te Per avermi dato Un'ottima prestazione Prestazione autorevole Bravo Ho Son Go Continua così Fatti la barba però Perché non ti si può guardare E andiamo avanti Col calendario Allora Abbiamo gli allenamenti Dovrebbero arrivare Anche dei nuovi giocatori Tramite gli osservatori Vediamo un attimino Ah infatti Ferma tutto Allora L'allenamento Come siamo messi Con gli allenamenti Abbiamo 3 A Vai così Dai così di brutto Signori Dai così di brutto Ok E questo ce l'abbiamo Andiamo a leggere Il resoconti Il resoconti Signori Allora Il resoconto Non ci interessa Situazione Contrattuale Percival Vorremmo pensare Che il libro È trasferito Altrove A titolo gratuito Percival Il mio Da cazzarola Vai persi La sistema 33 anni Mamma mia Contratti Scadenta Fra sei mesi Andiamo a rinnovare Un attimo Il contratto A persi Vali signori Non va bene Così Delegari Lui prende 1 e 7 Ma che palloncini Rotti Che palloncini Rotti Niente Non ne vuole sapere Niente Percival Niente L'anno prossimo Doveremo vedere Ozonko ha rinnovato Sì Ozonko L'avamo rinnovato Va bene Ok Fermi tutti Aggiornamento Del nostro primo Osservatore Darl'Irlanda Ci porta David McAvoy McAvoy Esterno Destro 59 75 Non mi sembri Tutta questa Grande potenza Sinceramente No Lo mandiamo a casa Gavin McHart 51 71 Ma neanche tu Sei interessante Ethan Boyce 51 69 Mamma mia Che ciofeche Di giocatori Daniel McCollunghin 62 62 62 62 62 No Signori io cerco quelli che mi possono cambiare la squadra Questo partito è un 55 75 Mamma mia Cosa è brutta Joseph Hurt 60 80 Questo magari potrebbe essere qualcosa di meglio Abbiamo mandato Lasciamolo Lasciamolo Continuiamo ad osservare più da vicino Abbiamo degli osservatori che fanno pena Signori Schmidt Schmidt all'Inghilterra ci ha portato Max Howard 69 69 69 69 85 E un esterno destro Nel senso un attaccante destro Ci serve No Decisamente no Ciao E benjamin 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 lo voglio signori 70 60 94 Benjamin A 15 anni Che vale 5 375 E tanta roba Ingaggiamo benjamin Signori Che ho fatto Che ho fatto con benjamin Situazione L'ho promosso Scusatemi Cosa è successo a benjamin Dove sta benjamin Se sono fregati benjamin L'ho promosso benjamin Scott Barrett Hansi Scusatemi Dove è benjamin Ho cacciato benjamin Non ci posso credere Dall'Inghilterra Rese conto Vedi il secondo osservatore Joseph Hurt Questo è dall'Irlanda Ok Chi se ne frega Dell'Irlanda Dall'Inghilterra No Non lo voglio Un nuovo osservatore Anche se forse Non ci farebbe male Mi date benjamin Sono un cretino Abbiamo trovato Una bestia in giocatore A 15 anni Mannaggia a me Che non leggo bene Le cose Mannaggia a me Mi fate vedere Solamente una cosa Abbiamo Un Un Finanze Mantiene l'avvento Sotto il 5% Ok Quindi non abbiamo Dei soldi Da dove per forza Tenere Allora andiamo a prendere Un altro osservatore Signori Andiamo a prendere Un altro osservatore Che Ci costerà un patrimonio E Piliamo lui Che non sembra male Lui o lo scozzese McGregor Dai Luis McGregor Dai come l'attore Come l'attore E lo scozzese Lo mandiamo Proprio scozzese Dai andiamo a cercare Un nuovo scozzese Per No No Sbagliato 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 Andiamo a cercare Un nuovo scozzese Do sta la scozza Galles Irlanda Irlanda Scozia Ok Per No Meno Tre mesi Tipo il gioco Da qualsiasi Intanto mandiamo lì Per tre mesi Che ci è costata Una botta di soldi Già Non ci posso credere Abbiamo trovato Un buon giovane L'abbiamo mandato via Sono un cretino Signori Errore con i giovani Porca miseria Allora Dovrebbe essere iniziato Il mercato Secondo un'antica leggenda Secondo un'antica leggenda Dovrebbe essere iniziato Il mercato Ma noi signori Per questa fascia Di mercato Direi di non fare niente Di non fare assolutamente niente Tenerci quelli che abbiamo E Vabbè sì Simulazione veloce Tenerci quelli che abbiamo E non Pensarci troppo Perché non abbiamo soldi Per comprare nessuno Sapete uno Che andrà a comprare Molto volentieri L'ho visto nella carriera Di falco Signori E Noi abbiamo Aladino e Slow E Sto con Le Smith Ok Io vorrei andare a vedere Se troviamo Miura Signori Che l'ho visto Nella Nella carriera di falco E Vediamo se lo troviamo Se no poi vedo giusto Come si scrive Miu Cazzo 49 punti Siamo a 7 punti Siamo a 7 punti Dalla Salford City E a pari punti Con il Colchester Colchester me lo ricordo Anche l'anno scorso Era terribile Il Colchester Ce le vinceva tutte Era pauroso Poi se nella serie successiva Nella Nella Serie successiva Sì Nella Leguan Faceva Fatto schifo Praticamente E' stato Regresso Quando noi Invece Siamo riusciti A salvarci In maniera Abbastanza Intelligente Intelligente Allora Questo video Già sta durando Troppo Ci siamo persi In chiacchiere Ci siamo persi Pure un grandissimo Giovane Mannaggia Andiamo Giocando Il Portvale Che è quinto Portvale Che è quinto E ce la giochiamo Con i titolari Su questa Non c'è dubbio E scendiamo In campo Signore Ci giochiamo Questa E Poi chiudiamo Il video Dai così Vai Gamberetti Chiudiamo In bellezza Chiudiamo In bellezza Dai Gamberetti Che famo E' uno scontro diretto Praticamente A 2 a 0 Bella così Gol di Wilding E Aladino Sono usciti Kanon Per Pringles E Stockholm Per Aladino Grande Aladino Entrata Il 52esimo Chiude la partita Grande Aladino Grande Aladino Bella Buoni Buoni Bravi I miei giocatori Che stanno crescendo Bene signori Dai che abbiamo preso Il secondo posto Abbiamo preso Il secondo posto In classifica Dai così Che siamo Secondi in classifica Manteniamo I 7 punti di stacco Dallo Salford Ma prendiamo Due punti Sul Colchester Buono così Buono così Va bene signori Detto questo Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per il like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao Ciao